Musica Faremo anche una petizione, una raccolta firme per installazione di telecamere all'interno del paese perché per adesso ci sono l'unica telecamera funzionante, è quella che è in collegamento tra Salleo e Pratantico. Qui insomma ci sentiamo un attimino veramente abbandonati. Questo l'appello che avevamo raccolto tra gli abitanti di Pratantico, un appello rivolto all'amministrazione e al prefetto per richiedere più controlli e quindi maggior sicurezza. I residenti ci avevano raccontato di persone sospette, tentativi di furto e di truffe ed addirittura scippi sventati. Ma ad accendere nei giorni scorsi i riflettori sulla frazione era stato un inquietante episodio. Una villetta era stata infatti presa di mira. Qualcuno aveva schizzato un misto di vernice e acqua ragia sulla porta, le finestre e sulla facciata dell'abitazione. Dunque noi stiamo mettendo in piedi una procedura, peraltro devo dire molto complessa, in base alla quale ci sarà la possibilità da parte di privati di acquistare telecamere a basso costo, installarle in zone nelle quali ritengono che ci sia la necessità di dover monitorare e attraverso queste telecamere che vengono sostanzialmente installate a cura dell'amministrazione comunale, le immagini vengono mandate alla nostra centrale operativa, la quale ovviamente non ne può tenere sotto controllo più di tante, però immagazzina le immagini e questo dà la sicurezza che nel caso che in questi luoghi avvenissero dei reati, le immagini sono disponibili per l'autorità giudiziaria. Ma nelle mire di ladri e malviventi non ci sono solamente le periferie ma anche le aree più centrali, come ad esempio la zona Giotto, negli ultimi mesi al centro dispiacevoli episodi di cronaca. In via Legiotto inoltre domenica mattina è stata sfondata la vetrata di un portone di un condominio. Io sono venuta la mattina, c'era il vetro spaccato, non so nient'altro. Siamo tutti alerta, siamo tutti sull'attenti, vediamo un po' via. E la sera è molto difficile uscire, anzi non si esce quasi mai. Qui rigarba questa strada a loro. Speriamo che non gli piaccia tanto. Grazie. Grazie.